Quindi inizierei intanto da Paolo Parentela, il nostro collega di commissione, si ti tocca il pulpito così stai in direzione di telecamera e non scappi, si prepari Anna Merlin successiva, grazie. Grazie a tutti, intervenire dopo il Ministro è oneroso insomma, mi fa molto piacere essere qua, ringrazio tutti gli organizzatori presenti a questo importante appuntamento, l'acqua è una sfida globale ma occorre anche agire locale, darò il mio contributo in questa sede per raccontarvi la battaglia per l'acqua pubblica che stiamo conducendo nella mia regione, non so se si sente dell'accento, sono calabrese. E ringrazio anche il collega di Polito che non è qui presente, che insieme a lui stiamo conducendo e tanti altri parlamentari e portavoce della regione, anche attivisti ed esperti che sono molto in gamba e soprattutto coraggiosi, stiamo portando avanti una battaglia di civiltà in Calabria. In Calabria l'attuale gestore del servizio idrico si chiama Sorical ed è una società partecipata in liquidazione. Il socio di maggioranza è la regione Calabria, il privato è controllato per l'intero dalla multinazionale francese Veolia, che sicuramente conoscete, la cui ristrutturazione del debito è in mano a una banca irlandese che si chiama Depfa Bank. Nel tempo la Sorical e l'SPA è diventato un carrozzone politico. In organico sono stati assunti, secondo le vecchie logiche spartitorie, soggetti legati alle tradizionali forze politiche. Il percorso di reclutamento poi non ha seguito logiche razionali di efficienza e di organizzazione funzionale allo scopo pubblico. La società, posta danni in liquidazione, è di fatto diventata nel tempo uno stipendificio, con l'aggravante della mancanza di trasparenza e del ritardo nella comunicazione dei dati di bilancio. Dunque da una parte gli aggravi di spesa per il personale, dall'altra un servizio idrico inadeguato, con condotte bucate come Colabrodi, perdita d'acqua superiore al 50%, ed è paradossale perché la Calabria è una delle regioni d'Europa che vanta le migliori fonti d'acqua ed ne ha davvero tante, ed è davvero paradossale. Il socio privato non ha messo in campo gli investimenti contemplati dalla Convenzione di Affidamento del Servizio, i controlli sulla gestione sono stati molto scarsi e non si è mai vista un'attività programmatica a servizio della comunità. Anzi, i vari comuni hanno subito l'illegittimo distacco o la riduzione della portata dell'acqua, il che ha portato per esempio la Procura di Lamezzeterme a indagare a fronte di danni e disagi pesanti per l'introduzione di pubblico servizio. In Calabria non esiste il servizio idrico integrato e oltretutto i comuni sono stati vessati per lunghi anni con fatturazioni maggiorate, nel complesso abbiamo fatto un calcolo fino a 150 milioni di euro e per via appunto di tariffe illegittime arbitrarie da parte della regione Calabria e della stessa Sorical. Abbiamo dimostrato e denunciato questo caso che grida vendetta attraverso un tour informativo denominato Acqua Raggia. La raggia sarebbe la rabbia dei calabresi che si ritrovano ad avere acqua non potabile e contaminata. Abbiamo chiesto ai vari sindaci e alle amministrazioni comunali di alzare la testa, tuttavia riscontrando timore, subordinazione e perfino opportunismo politico. Mi spiego meglio pregandovi di ascoltare a fondo questo passaggio. Diversi comuni hanno voltato lo sguardo dall'altra parte, sperando di ottenere una ricompensina dalla regione, magari con qualche finanziamento per qualche operetta pubblica. Ciò non ci ha scoraggiato. Per noi era ed è fondamentale creare consapevolezza, spiegare ai cittadini che i consumi sono stati fatturati scavalcando le regole e aumentando i profitti di Sorical, senza però investimenti atti a migliorare il servizio. Ogni emergenza idrica poteva essere affrontata diversamente, già soltanto con una manutenzione ordinaria, adeguata e con piani specifici che non si sono mai visti. A seguito della sensibilizzazione collattiva sul territorio, in merito al tema dell'acqua pubblica, che ha visto anche diverse associazioni, comitati, attivisti, è stata depositata una proposta di legge di iniziativa popolare in regione che non è stata assolutamente tenuta in considerazione. La regione Calabria se ne è infischiata e ha approvato un'altra legge di iniziativa regionale, approvando quindi una legge istitutiva dell'autorità idrica, evitando perciò la necessaria piena rappresentanza delle popolazioni interessate. Così questa autorità si è da principio distinta per essere una sorta di strumento attuativo della volontà dei vertici politici della regione, che starebbero pensando di far affidare proprio a Sorical il servizio idrico integrato della Calabria. Ancora ci tengo a ribadirlo, inesistente. Abbiamo contrastato simili manovre, che a volte sono state manifeste e altre sottotraccia, e non solo abbiamo predisposto una mozione utile per tutti i comuni calabresi, in cui abbiamo volto inserire nei rispettivi statuti che l'acqua è un bene essenziale per la vita e la sua disponibilità per i bisogni primari costituisce diritto inviolabile e universale per l'uomo. La mozione è stata approvata finora da un solo comune in Calabria, ringrazio il comune di Crosia, grazie anche al nostro consigliere comunale 5 Stelle, tiene conto delle elaborazioni giuridica e politica riguardanti il tema dell'acqua pubblica, tiene conto inoltre delle pronunce e sentenze, ne abbiamo parlato poco fa, di rilievi internazionali in merito alla tutela dei diritti insopprimibili, come soprattutto l'esito referendario che tutti noi ricordiamo del 2011, sull'acqua e sulle acquisizioni culturali e di principio sull'acqua che non può essere suscettibile di sfruttamento economico e di lucro. La suddetta mozione prevede in sintesi che esecutivi e consigli comunali assumono l'impegno di avviare le azioni necessarie al rimborso e alla rideterminazione da parte della Regione Calabria e del gestione Sorical delle somme per un totale, come dicevo prima, di 150 milioni di euro, richieste in più rispetto a quanto prescritto dalla normativa vigente. Nella mozione poi ci sono tanti altri impegni ben precisi, ciò anche per fermare la pratica della riduzione e del distacco della fornitura in caso di morosità dei comuni e per azioni di risarcimento contro Sorical in ragione dei mancati investimenti che non sono mai avvenuti sulla rete idrica. Riguardo a questa nuova autorità che è stata costituita, la mozione contempla una serie di punti fondamentali che in questa circostanza non posso soltanto riassumere. Oltre ai impegni per la massima trasparenza, rappresentatività, partecipazione democratica che la mozione stabilisce la gestione delle regolazioni del servizio idrico non siano separate e che possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico non assaggetabili o soprattutto al patto di stabilità interno proprio perché il Movimento 5 Stelle vuole che il servizio idrico integrato in Calabria sia veramente pubblico che è già mai affidata a questo carrozzone definito Sorical dopo un'operazione di restyling. Vado alle conclusioni. La gestione pubblica del servizio idrico deve avere come corollario l'esclusione dello sfruttamento economico dell'acqua. Inoltre l'autorità idrica calabrese deve impegnarsi a modificare retroattivamente queste tariffe illegittime praticate da Sorical e Regioni che hanno rappresentato una truffa verso gli utenti, finora volutamente consentita. A riguardo abbiamo avuto un'interlocuzione con Arera, qui abbiamo chiesto un intervento risolutivo e retroattivo sulle stesse tariffe perché i calabresi non subiscono più codesta colossale ingiustizia. Non ci stancheremo, continueremo ad andare avanti con la consapevolezza che stiamo portando avanti appunto una battaglia di civiltà per difendere il più importante dei beni comuni perché per noi l'acqua non si vende, si difende. Grazie a tutti per l'attenzione.